eccoci qua video della serata considerazioni sul video di flavio raponi dunque vi metterò adesso una fotografia che ho messo su instagram per quanto riguarda questa nuova ricerca del signor raponi della verità del fatto di dire chi è dopato e chi non lo è sicuramente tu lo stai facendo ancora adesso sarai sicuramente in una trt almeno adesso perché ci sono dei momenti in cui sei tum 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 l'unica conversazione che abbiamo avuto noi era per quanto riguarda il braccio che ti affascinava tanto e non riuscivamo a parlare altro del mio braccio mi ha spiegato un po come funziona con sponsor e tutto quanto io non voglio né dissare né portare rancore nonostante tu abbia fatto una cosa brutta ma tu che è una querela tu mi potrai dirmi tu hai fatto un altrettanta cosa sbagliata denunciandomi no la denuncia perché un amico in comune ci aveva chiamato dicendo che aveva speso soldi per qualche cosa che non si capiva che cos'era e soprattutto non arrivava le numerose lamentere non una hanno fatto di me poi quello che ha preso l'eredità di quello che facevamo io e l'incappucciato impazzito che sta cercando a tutti i costi che io faccio come maria sole barbieri per cui non avrà più poi divertimento per far storie storie poi senza contenuti io voglio spiegare due cose soprattutto per quanto riguarda le foto che hai mostrato e il fatto del perché questa caccia nati or not come fa anche quell'altro spelacchiato di teo trainer il naturale non capisce nulla con tanto rispetto e affetto per quanto riguarda il tipo di building per cui è quello che più facilmente può essere spennato come fate voi che a cui si può raccontare di turchesterone e i testerone tutte queste cagate qua di fatti tanti mi hanno chiesto ma è vero che questo cadino di cui mi sono occupato tic toc ancora tanto tempo fa scommettendo il canale con un certo lamastra che non si presentò mai a fare l'esame del sangue mi scommisi il canale lo scommetto ancora adesso che cadino in quella foto e poi vi faccio vedere questa foto o un 81 cadino io un 82 vi faccio vedere io davvero un ragazzo che pesava 60 62 kg su quell'altezza ok vedrete anche la ferite alle gambe perché mi ero spaccato da un anno un anno e mezzo cosa per motivo per cui non faccio vedere le gambe e vi faccio vedere veramente un ragazzo che su un metro 81 82 su 60 è molto molto sotto peso quella foto invece che ha mostrato nel mister poi voluto fare l'eroe dicendo io mi scommetto la vita ma anche tu comunque lo fai caccia al natural non c'entra niente fare il paladino del natural non vuol dire niente se poi comunque sia si fa il coaching facendolo come lo fai tu strappando due pagine senza nessun senso dall'enciclopedia della nonna e mandarle per poi comunque sia fare vedere io sono in grande forma anche tu hai usato il photoshop mille volte anche tu hai usato i pesi finti mille volte miele finto mille volte pensa che anche dal miele finto arrivarono del lamentere per di problemi faringola dingei una roba del genere io mi domando al popolo di natural mi voglio mi voglio riferire io perché il popolo di natural è quello più sverginato di tutti come si fa a credere mi faccio vedere innanzitutto la foto la foto del video di cadino dove pesa 59 kg 59 ad un metro e 81 per cui un centimetro di meno a uno 82 83 ero io cadino di ma siamo comunque in quelle vicinanze di altezza come si fa uno che veramente è 61 62 kg che è già sotto peso a paragonarsi a uno che ha una linea della madonna già tirato e tutto quanto già in forma di 17 anni per cui già stai usando da mo e sostenere che uno pesi 59 kg bisogna essere solamente stupidi il fatto che comunque raponi faccia queste caccia al natural e si dimostri il paladino per quando vuole lui è perché in natural si possono avvicinare a qualcuno che invece sa esattamente come funzionano le cure e quando c'è stato da prendere a caccia in culo che gli ha offerto di andare avanti c'era troppa fatica e troppo troppo introito probabilmente sai la paura fa tanta ma giustamente giustamente ha girato la faccia sia presti che il suo amico sarcone e tutto il resto io dico una cosa non c'entra nulla a fare la caccia al natural o la caccia al dopato sono tutti dopati perché tutti vogliono andare a ulti a provare solamente che c'è questa cosa del non voler ammetterlo perché si è stupidi e perché si fanno tanti soldi soprattutto perché il natural non riesce a distinguere sì dal no bella forza amico rapati grazie grazie